Eppiii, benvenuti in questione ragazzi, sono Henry, oggi siamo finalmente tornati qui con i video normali nella nostra bellissima postazione che tutti conosciamo Come vedete mi sono fatto il drip, sono dovuto scomparire un attimino per potermi fare questo bellissimo drip ma finalmente ho il drip E adesso siamo pronti per ripartire con i nostri video normali, ritornano i gameplay, ritornano le teorie, ritornano le reaction, tutto quello che volete ritorna Siamo finalmente qui, perciò ragazzi iniziamo subito col video di oggi e prima di iniziare vorrei parlarvi di... Grazie a tutti Grazie a tutti